Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Raccordo Siena-Firenze è chiuso in entrambe le direzioni per un incidente avvenuto al km 50 a San Casciano in Val di Pesa. Uscite obbligatorie San Casciano Sud per chi è diretto verso Firenze e in Pruneta Greve in Chianti per chi è diretto verso Siena. Si sono formate code tra Firenze in Pruneta e San Casciano verso Siena e tra Bargino e San Casciano verso Firenze. Ripercussioni anche sulla strada regionale 2 via Cassia. In direzione Pisa code sul bivio A1-11 provenendo sia da Roma che da Bologna e due chilometri di coda per un incidente ora risolto tra Firenze-Ovest e Prato-Est. Sempre sulla A11 verso Firenze rallentamenti tra Prato-Ovest e l'allacciamento con l'A1 e code tra Firenze-Nord e Peretola. In A1 verso Bologna code tra Firenze-Scandici e l'allacciamento con l'A11. In direzione Roma code tra l'allacciamento con l'A11 e Firenze-Scandici e rallentamenti tra Firenze-Sud in Cisareggello. Code in uscita a Firenze-Scandici provenendo da entrambe le direzioni. In Fipili verso Firenze rallentamenti tra Scandici e Firenze-Scandici. Code alle uscite di La Strassigna e di Santa Croce sull'Arno entrambe provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio!